A Catania, tutti per Matteo Salvini, abbiamo un buon legista da Montegri che è comissato in Italia, è semplicissimo, un legista che è nato e cresciuto in Sicilia. Un saluto a tutti, un saluto in modo particolare agli amici della campagna, questa grande giornata di partecipazione, di confronto, il processo, adesso vedremo come andrà, siamo qui per difendere un principio, il principio di legalità e di giustizia, è il tema più fondamentale che è il tema della sicurezza, orgogliosamente con Matteo Salvini abbiamo fatto due decreti, il decreto di sicurezza, due strumenti importanti per garantire la sicurezza, la lega è totalmente diversa, la lega è organizzata, se il governo lo abbiamo fatto con tanti amici che si sono seguiti dal falco di questo decreto di sicurezza, lo abbiamo fatto anche con l'assessore alla dottura della regione Calabria per creare questo collegamento tra le due regioni più mediterranei in Italia, entrambi in legisti, entrambi in legisti, e lo abbiamo fatto con tanti amici, di rifiuti, di economia, di ambiente, di immigrazione, tutti i temi che consegniamo all'Italia, la lega tornerà finalmente al governo del paese con il centro-lessio, quando permetteranno gli italiani di votare, lo dico ancora una volta da sessore regionale ai pericurati. E poi ci vedremo successivamente con l'assessore regionale.